musica 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 sembra proprio lei musica musica andiamo a 12.20 musica 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 Manteniamo la calma, anche se è un bel pesce. Eccola qua. Bellissima. Bella, 80 metri, l'acqua si è fatta più fredda, i pesci se ne vanno più sotto, l'importante è crederci sempre, avere un buon eco e trovare le marcature, poi il resto viene da sé, pazienza, costanza, col tempo ci premerà.